Siamo in via Gasparolli al 151 a Cassano Magnago e davanti a questo numero civico praticamente non c'è il marciapiede. Abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione negli anni 2000 e vorremmo sapere a chi ci dobbiamo rivolgere per avere questo marciapiede. Invito i cittadini che possono avere altri problemi a rivolgersi a Cassano Magnago TV per segnalare. Grazie.